ben a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale ed un nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo shinobi revenge il nuovo shinobi con un nuovo ingrediente al suo interno ora andiamo aprire la boccetta fare vedere è una boccetta si presenta così con 20 ml di aroma ci va aggiunta 30 ml di vasetta vg bella densa bella sembra come ci piace a noi chi ci vuole ci mette la nicotina noi lo stiamo svappando a zero ora andiamo a fare la prova di svappo di questo nuovo liquido della shinobi vai gabrie drippalo ricordiamo che abbiamo preso da svappo caffè marina di carara moliciara la spezia salutiamo cristiano andato a trovare perché ha un botto di box liquidi se volete fare un liquidozzo e sperimentare con qualche aroma particolare la lo troverete allora facciamo la prova io sto sto svappando sul mega il flauto di shinobi io con la wismac e lenti ma pure mi fa pesicoso si trovo di pesicoso si molto non è male buonissimo fresco si per l'estate per l'estate e cremoso cremoso fruttato che ti rende un po cremoso un po migelato alla pesca un po un fruttino un gusto particolare si non è come la shinobi che abbiamo provato quello è vero ci sta bene questa pesca all'interno di questo liquidozzo doveva aumentare diciamo di gradimento a saporire questo liquido l'estate sembra che ti sei mangiato la macedonia è vero allora dalla taberna dello svappo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su instagram e su facebook veniteci a trovare nel nostro sito su facebook e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale ciao ciao